Carity Shops è un'iniziativa in collaborazione con il giornale del Metauro e tenta di aiutare le associazioni del nostro territorio. Partiremo con una speranza per Federico e l'obiettivo è quello di trasformare gli acquisti dei clienti in beneficenza. Quindi io riesco a andare in un negozio, comprare un prodotto o servizio che mi serve e parte di quanto speso verrà devoluto in beneficenza all'associazione di riferimento. E in questo caso basterà ritagliare il coupon? Basterà ritagliare il coupon, andare in negozio, acquistare e inserire il coupon nel contenitore. Questo è molto importante perché alla fine dell'iniziativa noi conteremo i coupon e quelli indicheranno la beneficenza che il negoziante farà all'associazione. Ricordiamo anche dove è possibile trovare il giornale. Il giornale del Metauro è distribuito in tutta l'entroterra del Metauro e i coupon sono nelle pagine di Fano, Cartocito e Saltara. Quindi abbiamo queste località, iniziamo con queste località. Tanta solidarietà per il piccolo Federico. Si cerca di fare questo. Grazie. Grazie.